Adesso bisogna fare un'altra battaglia, non può essere il 100% in 10 anni, per un semplice motivo. Se una busta paga operaia, pagare in 10 anni il 100% vuol dire una ritenuta che si valerà fra gli 80 e i 100 euro in meno per 10 anni al mese. Quindi piglierà 900-920 euro. Questo non è possibile. I conti li fa il sindaco Cialenti all'indomani della mobilitazione degli aquilani nella capitale che hanno portato a casa un microscopico passo avanti, come ha detto il parlamentare Giovanni Lolli. Nell'emendamento annunciato da Letta si prevederà una restituzione delle tasse in 10 anni invece che in 5, ma al 100%. Tante botte e pochi risultati, aveva detto Cialenti ieri al termine di una giornata con Mulza, la vede diversamente a Ricciuti PDL. Intanto c'è un risultato che è l'attenzione, l'attenzione complessiva rispetto ai nostri problemi. E poi il fatto che comunque è in corso di approvazione dell'emendamento sui 10 anni è un fatto comunque rilevante. E sulle reazioni delle forze dell'ordine che a fine giornata hanno portato ad un bilancio di due feriti, centrodestra e centrosinistra la vedono così. L'accoglienza è stata assolutamente spropositata. L'accoglienza infelice è il frutto di qualche sporadica presenza di facinorosi che hanno vanificato purtroppo l'efficacia reale della manifestazione di ieri. Che aveva una valenza ben diversa e doveva avere dei risultati ben diversi. E questo va a detrimento della città dell'Aquila che certamente non è fatta né di facinorosi né di gente che merita di essere manganellata. In mattinata è intervenuto il presidente del Consiglio. Noi abbiamo fatto un intervento immediato dopo il terremoto ed è stato efficacissimo, ha detto Berlusconi. Ora la ricostruzione spetta alle autorità locali.